buonasera buonasera a tutti intanto mi devo scusare perché questa questa diretta era prevista inizialmente per ieri per domenica sera ma ho avuto dei problemi di come di connessione che mi hanno obbligato a rinviare di 24 ore poco male allora il tema di questa sera credo sia abbastanza interessante accattivante perché vorrei parlare delle diverse concezioni dell'aldilà nel mondo antico e quindi parlare anche e soprattutto dell'inferno e del paradiso siccome poi mentre preparavo la trasmissione mi sono accorto che il materiale che gli argomenti erano e sono piuttosto numerosi ho pensato di spezzare questa diretta in due parti quindi stasera parlerò unicamente diverse concezioni nell'aldilà nel mondo antico fino all'avvento del cristianesimo quindi escludendo il cristianesimo quindi parlerò soprattutto delle concezioni ebraiche e delle concezioni del mondo greco ellenistico e ancora prima di come veniva vista la morte ne dico insensolato quindi che nella nell'antica mesopotamia la morte la morte è un argomento che è un tema che che ci ossessiona che ha sempre ossessionato l'umanità si può dire che l'uomo fin dal momento in cui ha avuto consapevolezza di sé si è posto con angoscia il tema della morte il tema della fine dell'esistenza e l'umanità e l'uomo da sempre si è fatto le domande che tutti sappiamo che cosa ci sarà dopo ci sarà qualcosa o non ci sarà qualcosa e se ci sarà qualcosa in che cosa consisterà questo qualcosa ebbene le risposte che sono state date nel corso del tempo e nelle varie civiltà qui mi occuperò soltanto come vi dicevo della diciamo della della civiltà del mediterraneo e più in generale di quella del medio oriente non mi occuperò anche perché non non ne sarei grado di della concezione della morte ad esempio presso le popolazioni nativo americane di cui di cui non so nulla parliamo quindi delle concezioni che sono più vicine a noi da un punto di vista culturale e che più ci hanno condizionato e ci condizionano tuttora come vi dicevo e come sapete bene tutti fin da quando l'umanità ha avuto consapevolezza di sé si è chiesta con angoscia la questione il tema della morte e non è un caso che nei primi testi scritti non a scopo meramente pratico ma a scopo letterario a scopo poetico il tema della morte il tema della dell'immortalità o meglio della ricerca dell'immortalità compare fin da subito noi abbiamo il primo poema di cui di cui conosciamo l'esistenza che è l'epopea di gilgamesh scritta in accadico in cui il tema della morte il tema della vana ricerca dell'immortalità è centrale sapete gilgamesh era questo eroe mitico che però per gli antichi sumeri e per i popoli mesopotamici era stato un personaggio reale secondo loro un re del periodo antidiluviano che a un certo punto si pone questa cruciale questione se la pone perché deve sopportare con angoscia la morte del suo caro amico Enkidu Enkidu era stato affiancato dagli dei simili a lui per così un po' appunto per per fargli compagnia anche in qualche modo per controllarlo nelle sue avventure a un certo punto i due combinano qualche marachella di troppo gli dei si arrabbiano dice il mito di gilgamesh e decidono che uno dei due deve morire siccome Enkidu sa che toccherà a lui la malasorte di di morire noi troviamo nel nel poema di gilgamesh alcuni alcuni brani strazianti in cui lo stesso Enkidu sogna con con dispiacere con 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 terrore con angoscia il momento in cui dovrà morire e descrive che cosa accadrà dopo lasciate che che vi lega un brevissimo brano allora come vi dicevo tratto dall'epopea di gilgamesh qui è in che parla Enkidu ha appena saputo che l'idea lo hanno condannato a morte ed Enkidu dice mi prese e mi condusse alla casa dell'oscurità la dimora di Irkalla a una casa dalla quale coloro che vi entrano non escono per una via la cui andata non ha ritorno a una casa i cui abitanti sono privati della luce dove il loro alimento è polvere e il loro cibo argilla sono rivestiti come uccelli con un abbigliamento di piume inoltre non vedono la luce e sono seduti nelle tenebre questa è la tavoletta 7 dell'epopea di gilgamesh e poco dopo lo stesso gilgamesh si rende conto che prima o poi anche a lui toccherà la stessa sorte dell'amico Enkidu e quindi sentite che cosa dice gilgamesh quando anch'io morirò non sarò forse come Enkidu la tristezza è entrata nel mio cuore ho avuto paura della morte e ora vago per la steppa poi come molti di voi sanno l'epopea di gilgamesh narra appunto di questa spasmodica ricerca da parte del dell'eroe di un modo per per conquistare l'immortalità nei miti mesopotamici ne vetti ad un solo mortale era stata concessa l'immortalità a Utnapishtim che è in sostanza una figura da cui ha preso poi ispirazione quella del del Noè biblico Utnapishtim come come Noè mille anni dopo almeno salva l'umanità dal diluvio o meglio lui si salva assieme dentro un'arca con degli animali quindi abbiamo un racconto che che poi sarà usato come modello nella bibbia per quello di Noè e comunque a lui dei concedono l'immortalità gilgamesh si recca riesce a trovarlo riesce a trovare lui gli dice che dovrà andare a cercare una pianta che si trova sotto il mare ci sono varie peripezie arriva la prende un attimo gilgamesh pensa di aver conquistato l'immortalità ma ecco che arriva un serpente e questo serpente si mangia la pianta e così anche il nostro popolo gilgamesh si troverà costretto prima o poi ad affrontare la morte tra l'altro apro una parentesi è interessante notare il parallelismo con il racconto biblico abbiamo nel racconto biblico il serpente che tenta Eva e quindi poi indiremente anche Adamo e abbiamo in questo racconto molto più antico un altro serpente che impedisce a gilgamesh di cibarsi di questa pianta che l'avrebbe reso immortale vedete come questi transfer culturali li possiamo chiamare così nel mondo nel mondo antico erano ben presenti così come sono presenti anche nella cultura attuale ma al di là del racconto della trama dell'epopea di gilgamesh quello che qui mi preme sottolineare è che la morte nella cultura eh sumero cadica quella che che dà vita l'epopea di gilgamesh è vista un po come come la fine di tutto si torna argilla se si arriva dalla polvere dall'argile si torna essere argilla quindi la morte è in sostanza l'annichilimento non c'è assolutamente alcun concetto di premio punizione nell'aldilà l'aldilà è è un segna un destino un destino diciamo di scomparsa appunto di annichilimento al massimo di di ombra di ombra che vive lontano dalla luce è una concezione se volete molto naturalistica per un certo verso perché riflette esattamente eh ciò che eh visivamente eh le popolazioni di quel periodo ma di di qualunque periodo possono costatare a livello fisico della morte cioè di un di un processo di di rapida consumazione del corpo che porta alla distruzione totale dello stesso nel giro di eh non moltissimo tempo quindi qui non c'è alcuna prospettiva di di salvezza non c'è alcuna prospettiva come vi dicevo eh di premio ma nemmeno di eh punizione la morte però angoscia e nell'epopea di Gilgamesh non abbiamo una una soluzione eh se volete filosofica a questo problema è in sostanza una registrazione invece del problema è una registrazione eh dell'angoscia presente nell'umanità facciamo un passo avanti eh perché le cose come sapete non sono rimaste così eh c'è stato un primo tentativo a livello intellettuale nel mondo antico di fare i conti con la morte in una maniera diversa in una maniera che potesse permettere di di ridurre questo senso di di angoscia eh di chi sto parlando sto parlando di Socrate ovviamente eh Socrate cosa diceva 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 che non bisogna temere la morte dal momento che nessuno conosce in che cosa consista sentite esattamente che cosa diceva Socrate o meglio che cosa gli faceva dire Platone perché in realtà noi di Socrate non abbiamo nulla di scritto ciò che sappiamo o che pensiamo di sapere di Socrate ci arriva attraverso gli scritti di Platone e allora cosa fa dire Platone a Socrate nel momento in cui Socrate subisce il famoso processo eh che lo lo condannerà a morte alla a bere la cicuda lui durante questo processo esprime questo concetto e dice infatti avere della paura della morte o cittadini non significa altro che crede di è di credere di essere un sapiente mentre in realtà non lo si è infatti è un credere di sapere cose che non si sanno in effetti nessuno sa che cosa sia la morte e se essa non si trovi a essere per l'uomo il maggiore di tutti i beni e invece gli uomini ne hanno paura come se sapessero bene che essa è il più grande dei mali e questo non è forse ignoranza e anzi la più riprorevole l'essere convinti di sapere le cose che invece non si sanno Socrate qui secondo me in maniera molto onesta dice che l'uomo non sa che cosa sia la morte e chi dice di saperlo mente per cui se non si sa che cosa è la morte lui dice anche aggiunge che è inutile temerla eh Socrate aggiunge anche che ci possono essere due possibilità eh che tra di loro sono eh opposte ma che entrambe non prevedono una ehm come dire non 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 sono fonte di pericolo per l'umanità perché lui dice se la morte è la fine di tutto non la dobbiamo temere perché è come addormentarsi come addormentarsi in un sonno profondo senza sogni se invece dopo la morte si trasmigra da qualche altra parte e quindi c'è una continuazione dell'esistenza in un modo che però lo ripete lo ripeto non sappiamo allora anche in questo caso non la dobbiamo temere così come non dobbiamo temere i cambiamenti se possono essere potenzialmente piacevoli certo la prospettiva di Socrate è o meglio la risposta di Socrate è una risposta di tipo eh sicuramente intellettuale raffinata e non è detto che le masse allora aderissero e avessero anche le capacità culturali e intellettuali eh di ehm di seguire argomentazioni di questo tipo questo è un po' un problema tra l'altro c'è la differenza tra ciò che pensavano i dotti i sapienti l'intellettuale ciò che pensavano le masse è una questione che eh che continua nel tempo allora come come in seguito e come anche oggi da un certo punto di vista mh c'è sempre stata questa questa dicotomia tra eh tra ciò che della morte pensa la stragrande maggioranza della popolazione e ciò che pensano della morte i filosofi come dicono i francesi e questo era assolutamente vero nell'antica Grecia ma mh se eh se ci stacchiamo un attimo dal dall'ambiente filosofico vero e proprio e parliamo invece di dell'opera omerica cioè di e dell'odissea che che invece sicuramente avevano eh anche anche coloro che non sapevano leggere coloro che non sapevano scrivere perché queste erano opere nella tarda antichità assolutamente diffuse e conosciute eh da molti sia nell'odissea sia nell'iliade noi abbiamo dei riferimenti all'aldilà perché eh per Romero sicuramente la morte è senza ritorno e quindi abbiamo un po' ancora una ripresa di ciò che eh diceva il buon Gilgamesh o meglio l'autore del mito di Gilgamesh infatti che cosa fa dire l'autore eh dell'iliade a Achille? Achille dice predare si possono i buoi e le pecore grasse col denaro si comprano tripodi e cavalli di bionda cliera ma non si può rapire né ricomprare la vita di un uomo perché torna all'indietro quando ha varcato la cerchia dei denti quindi in sostanza Achille sta dicendo eh non c'è ritorno dalla morte noi poi nel nel nei racconti omerici in questo caso nell'odissea abbiamo abbiamo il primo il primo racconto mitico all'interno della cultura greca di una discesa nel nel nell'ade cioè nella terra dell'oltretompa nell'aldilà e noi abbiamo il racconto di Odisseo che dopo aver incontrato eh Circe fa appunto questo viaggio perché va a cercare un indovino Tiresia che era defunto ma che avrebbe potuto aiutarlo a ritrovare la via del ritorno a casa a Itaca e eh anche nell'odissea abbiamo un un immagine eh dell'aldilà che è sostanzialmente senza speranza intanto di nuovo non ci sono assolutamente premi e punizione così come nell'ipopea eh di Gilgamesh quindi tutti i defunti sostanzialmente eh hanno la stessa sorte qual è questa sorte? È la sorte di essere delle ombre eh delle pallide imitazioni di ciò che erano stati in vita eh sempre nei racconti omerici si dice che anche i più valenti guerrieri gli eroi che avevano combattuto nella guerra di Troia valorosi eh nell'aldilà non sono nulla sono meno dell'uomo mortale più imbelle più eh meno meno valente meno coraggioso la morte quindi di nuovo segna un segna la fine non tanto in questo caso una fine di annichilimento totale ma eh comunque si tratta di una di una vita di ombre ecco il termine corretto di nuovo eh e ombre una vita in cui tra l'altro non ci sono nemmeno ricordi eh della della vita vera e propria si vive senza ricordare nulla eh quasi come si fosse dei dei vegetali tant'è che per poter parlare con questi defunti bisogna dargli del sangue in modo che possano riprendere eh almeno per qualche istante una parvenza di di vita di vitalità e quindi a loro possa anche tornare la memoria. In realtà c'è qualche mh scarsissima eccezione a questo quadro piatto e desolante nell'Iliide e nell'Odissea eh c'è un'eccezione quella di Menelao. Menelao pur essendo un mortale a esso è concesso non la vita grigia di ombre del dell'Ade ma è concessa una vita noi diremmo paradisiaca all'interno dei cosiddetti campi Elisi. Campi Elisi sono un luogo a meno sono immaginati come un luogo a meno verdeggiante eh di verde frescura ma perché a Menelao è concessa questa eh questa opportunità che agli altri mortali non è concessa perché Menelao è il genero di Zeus in quanto marito di Elena figlia di Zeus ma eh come diremo noi una rondine non fa primavera il fatto che ci sia questo racconto su Menelao non significa che nella tradizione greca antica ci fosse prevalente l'idea della possibilità di un premio tant'è che appunto si tratta di una singola eccezione. C'è anche un'eccezione inversa cioè ci sono anche alcuni che vengono puniti che in realtà però non sono dei mortali sono tra i titani che si erano ribellati agli dei e cioè Tizio, Sisifo e Tantalo. Essi eh siccome sono puniti eh non nell'aldilà sono costretti a a dei tormenti no? Le famose ad esempio fatiche di di Sisifo poi c'è che un altro deve portare una roccia in cima ad una ad una montagna questa rotola deve ricominciare sono tutte immagini che poi ritroveremo anche nell'inferno medievale eh dantesco ma al di là di questi eh come dire di queste scarsissime eccezioni come vi dicevo l'immaginario omerico è quello eh di una morte che che ci consegna a tutti ad un destino piatto e di ombre senza sofferenza ma nemmeno eh senza felicità una vita che si trascina in maniera informe. Tra l'altro non dobbiamo neanche pensare che l'Ilia dell'Odissea fossero considerati eh testi come dire eh sacri certo eh erano testi che influenzavano tantissimo l'immaginario collettivo del mondo greco romano ma non avevano eh come dire un valore eh di dogma religioso capite eh tant'è che molti secoli dopo la 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 pubblicazione di queste fondamentali opere del mondo antico eh noi abbiamo lo scrittore Luciano di Samosata che nel secondo secolo dopo Cristo prende in giro ironicamente la credulità di molti suoi contemporanei che lui dice essendo influenzati da Omero credono che sottoterra esista una grande cavità dove i morti finiscono e conducono una vita di distenti. Quindi vedete anche nell'antichità vi erano diverse opinioni. Facciamo un passo avanti. Da Omero passiamo all'Eneide Virgiliana. Ecco possiamo dire che è con Virgilio che prende forma scritta per la prima volta l'idea dell'inferno e del paradiso cioè l'idea di un futuro post morte in cui alcuni non molti in realtà saranno premiati e molti invece saranno puliti perché eh noi abbiamo e adesso ve lo leggo il passo dell'Eneide in cui Enea così come era già successo Odisseo nell'Odissea eh di Romero a un certo punto eh si trova a visitare l'aldilà e e adesso vi trovo il il punto adesso vi trovo il punto no questo ve lo leggo dopo diciamo comunque che che fondamentalmente eh perché vi dico che con 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 Virgilio nasce il concetto di il concetto di inferno e paradiso perché Neo immagina di visitare eh l'aldilà e di trovare due percorsi cioè due ambienti completamente diversi da una parte l'elisio cioè i campi elisi in sostanza e dall'altra il tartaro da una parte finiscono le anime ehm che che sono premiate perché avevano eh comunque eh avuto una vita da giusti e dall'altra invece finiscono coloro che devono furgare le loro azioni negative anime attenzione perché qui entra in gioco il concetto filosofico anima ed è un un cambio di prospettiva rispetto al mondo omerico perché eh nel mondo omerico ciò che conta sono i corpi eh tant'è che nell'aldilà siccome i corpi si si disgregono scompaiono rimane soltanto una un'ombra appunto della vita invece nelle neide di Virgilio è l'anima che prende sopravvento sul corpo e non è una differenza da poco questa perché poi tutti questo concetto questa nuova concezione ce la ritroveremo dopo non molto nel cristianesimo le anime però di Virgilio eh non sono quelle che vengono punite non sono condannate a tormenti eterni hanno la possibilità di eh di avere una appunto una seconda chance quindi abbiamo un po' anche un concetto in un certo senso di eh reincarnazione perché le anime una volta dilavate con la sofferenza quindi vengono pulite punite nel tartaro potranno reincarnarsi. Cos'è che era successo tra eh Virgilio e Omero? Beh era successo che era comparso un personaggio di nome Platone perché è con Platone che compare per la prima volta o meglio che trova una come dire una 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 descrizione completa e articolata il concetto di anima. Per Platone l'anima è immortale a differenza del corpo poi vedremo una grande differenza tra il concetto di anima platonica e il concetto di soffio vitale ebraico ma siccome per Platone l'anima è immortale è essa che deve poi nell'aldilà eh vedersela con un discorso di di premio e di punizione. È una differenza vi ripeto fondamentale rispetto alla concezione omeri omerica. Non è però questo cioè questo questo elemento questo elemento questa credenza nell'immortalità dell'anima non dobbiamo pensare che fosse condivisa da tutti perché nel mondo greco vi erano alcuni che invece negavano assolutamente ciò ad esempio Epicuro e tutta la scuola degli Epicurei. Epicuro era un negazionista scettico per lui eh l'anima era fatta di particelle sottili potremmo dire di atomi. Questi atomi si trovano sparsi all'interno del corpo per cui nel momento in cui il corpo muore e si disgrega queste particelle formanti l'anima anch'esse si disperdono per cui non c'è alcuna possibilità eh di una qualche forma di esistenza eh nell'aldilà. Io non nego eh di come di abbracciare una concezione Epicurea in un certo senso ritengo che Epicuro avesse colto poi eh l'essente della questione ma non soltanto Epicuro perché eh Lucrezio nel De rerum natura eh fa proprio questi concetti Epicurei ma non solo anche lo stesso Cicerone parla di mortalità dell'anima e non di immortalità. Sentite che cosa dice eh Cicerone ecco Cicerone nelle Tusculane Disputaciones dice questo su questo bisogno insistere e ritornare ripetutamente dopo aver fissato questo punto su cui non è possibile alcun dubbio se l'anima è mortale. La morte comporta un annientamento tale che non rimane neppure la minima traccia di sensazione. L'anima muore. Che male può esservi in ciò dal dal momento che la morte non riguarda nei vivi nei morti questi non esistono quelli non saranno toccati. È un po' una ripresa appunto del pensiero di Epicuro nel momento in cui lui diceva che la morte non ci doveva preoccupare perché finché siamo vivi non ci tocca e quando morti siccome non saremo non dobbiamo preoccuparci di uno stato di non esistenza così come eh non ci preoccupiamo dello stato di non esistenza precedente alla nostra concezione. Quindi vedete nel mondo greco romano convivevano eh diverse credenze antitetiche tra loro rispetto alla morte, rispetto all'aldilà, rispetto alla possibilità di un'esistenza nell'aldilà e rispetto la possibilità di un quadro di punizioni e premi o meno di nuovo eh nell'aldilà. Questo però ripeto era un po' il dibattito che avveniva a livello alto eh è difficile per noi capire esattamente invece in cosa credessero le masse del mondo greco romano. Probabilmente la maggioranza di loro credeva in qualche forma di sopravvivenza dell'anima. Questo lo possiamo constatare un po' eh analizzando le epigrafi, le le iscrizioni sulle lapide sulle lapide funerarie in cui ci sono sì dei riferimenti a a concezioni epicuree ma bisogna essere onesti e dire anche che nella maggioranza dei casi queste iscrizioni richiamano a una qualche forma di di esistenza nell'aldilà. Ecco questo è un po' il quadro descritto in maniera molto succinta eh del delle concezioni dell'aldilà nel mondo nel mondo greco romano. Diciamo per riassumere che c'è un prima e un post Platone eh il concetto di anima eh immortale si delinea e viene strutturato fisica filosoficamente a partire da Platone il che non significa che lo avesse inventato lui probabilmente erano concezioni che già in qualche modo circolavano nel mondo greco. Ma diciamo che eh senza la fondamentale figura di Platone non ci potremmo spiegare le le concezioni dell'aldilà che ci ritroviamo nelle neide di Virgilio e che come vi dicevo sono molto diverse rispetto alle concezioni che ci troviamo invece nell'Iliade e nell'Odissea. Ora chiudiamo un attimo il capitolo del mondo greco romano e apriamo invece il capitolo del mondo ebraico. Anche qui attenzione non perché si tratti di due compartimenti stani, tutt'altro a un certo punto soprattutto a partire dall'ellenismo le contaminazioni culturali come vedremmo ci furono e come tra mondo greco romano, mondo greco ellenistico e eh ebraismo giudaismo. Ma inizialmente sicuramente la concezione ebraica era diversa da quella greca. Eh una premessa eh anche nel mondo ebraico antico e quindi anche all'interno della Bibbia che la Bibbia ebraica ovviamente sto parlando che è stata scritta in un arco di alcuni secoli e che quindi riflette diverse concezioni anche in relazione alla morte e all'aldilà abbiamo appunto nel mondo ebraico e all'interno della Bibbia diverse concezioni. Quindi la Bibbia ehm si si conferma anche in questo caso che poi è fondamentale perché riguarda un aspetto importantissimo eh si rivela non un monolite. Possiamo dire assumendo al massimo che eh molto probabilmente nella tradizione ebraica più antica la morte segna la fine di tutto e e non ci dobbiamo mh come dire eh non stupire di ciò perché questa concezione è un po eh la stessa vi ricordate che ritrovavamo nell'epopea di Gilgamesh. Quindi doveva essere un po' una concezione comune a tutto il a tutta l'area vicino e medio orientale. Tra l'altro nella tradizione ebraica più antica non esiste nemmeno un concetto di anima paragonabile a quella platonica. Sì in ebraico c'è il termine eh nefesh che che però più che anima possiamo tradurre con con soffio vitale e soprattutto non c'era nella tradizione ebraica più antica il concetto di una dicotomia anima e corpo che invece ritroviamo nel nel mondo greco nel nel platonismo in particolare eh nefesh quindi lo spirito vitale è qualcosa di strettamente connesso al corpo e che è senza il corpo questo nefesh non non può sopravvivere quindi non c'è dualismo. Il termine ebraico che indicava l'aldilà cioè lo sheol anche qui eh molti eh tendevano e tendono ancora adesso a eh paragonarlo al concetto di ade greco quindi al agli inferi non intesi come come gli inferi cristiani ma intesi semplicemente come mondo dell'oltretomba. In realtà eh nella Bibbia lo sheol quando viene nominato non tantissime volte a dire la verità rimanda più che a un mondo collettivo anche se non mancano eh alcuni alcuni episodi in cui invece rimanda questo ma nella stragrande maggioranza dei casi rimanda semplicemente al concetto di fossa di tomba cioè lo sheol quindi è semplicemente luogo sotterraneo in cui il cadavere in cui il corpo del defunto viene seppellito e quindi di nuovo si manda il concetto di essenza di luce di di tenebre e eccetera. Eh Dio tra l'altro e questo è un altro aspetto importantissimo Yahweh cioè il Dio ebraico eh nella Bibbia non pare interagire con i defunti. Il Dio ebraico e questa è un'altra è un'altra concezione è un altro aspetto fondamentale si interessa semplicemente dei vivi nella tradizione ebraica più antica non parla con i morti perché la morte è progressivo e nientamento non è un caso che la religione ebraica nella sua nella sua essenza iniziale ma non solo è una religione è il patto ma è un patto che riguarda gli esseri umani cioè il popolo ebraico vivo e la propria divinità nazionale è un patto in cui c'è uno scambio che è una sorta di di contratto in cambio di fedeltà e in cambio di sì appunto di fedeltà a Dio ma anche a fedeltà alle descrizioni che Dio ha dato agli ebrei in cambio di questo Dio dovrebbe proteggere e far prosperare la nazione ebraica. Quindi è un rapporto tra Dio e dei viventi non c'è assolutamente l'aspetto dell'aldilà e questo aspetto non è nemmeno centrare nella tradizione più antica tant'è che nella Bibbia tranne che adesso lo vedremo in scarsi e tardi passaggi non c'è nulla che rimandi e che faccia capire in maniera chiara qual è il destino del defunto e cosa ci sarà dopo. Ci sono però che vi dicevo anche che la Bibbia non è un monolite alcuni passaggi in cui invece in qualche modo sembra che qualcosa dopo la vita cioè dopo la morte ci sia ancora e qui dobbiamo fare un po' la stessa distinzione che facevamo per il mondo greco perché ad esempio il libro di Giobbe, i salmi e il libro delle crisiaste non sembrano credere ad una sopravvivenza post-mortem. Non a caso questi sono, a detta delle esegesi, libri colti, cioè sono libri all'interno della Bibbia ebraica scritti da persone sicuramente di alta cultura e raffinate dal punto di vista culturale che non credevano alla sopravvivenza post-mortem. Ci sono però altri passi della Bibbia in cui invece, come vi dicevo, questa sopravvivenza qua e là fa capolino. Abbiamo ad esempio nel libro 1 di Samuele il famoso episodio della strega di Endor. Saul, primo re di Israele, deve affrontare i filistei e siccome con le tecniche di divinazione classiche, gli urim, quelle pietre che venivano estratte dai sacerdoti per profettizzare il futuro, siccome non riusciva, dice la Bibbia, ci dice il primo libro di Samuele, a mettersi in contatto con gli adè, allora si reca da questa strega, strega che potremmo definire chiromante. Questa strega riesce a far di risuscitare il fantasma del profetto Samuele che quando era in vita invece veniva utilizzato appunto da Saul per farsi consigliare sui da farsi. Samuele compare in maniera diafana, quindi è proprio un fantasma, c'è proprio la descrizione di un fantasma come lo immaginiamo noi. Samuele pare disturbato, pare disturbato dal fatto di essere stato svegliato. Non è chiaro a cosa rimandi questo disturbo. Se è stato svegliato perché prima dormiva, cioè non aveva autocoscienza nell'aldilà, oppure se la sua condizione nell'aldilà fosse relativamente piacevole e quindi per lui era un fastidio dover ritornare, seppur momentaneamente, nel mondo dei vivi. Non è chiaro, questa cosa non viene puntualizzata, ma questo è un argomento in più per farci capire che tutto ciò che riguarda l'aldilà nell'ebraismo classico del Secondo Tempio non aveva un'importanza cruciale. Ciò, lo ripeto, che aveva importanza nel mondo ebraico era il rispetto del patto qui e ora, cioè nel momento in cui si è vivi. E' anche vero, e questa è una contraddizione con ciò che vi ho appena detto, che ad esempio nelle leggi di Mosè, cioè all'interno del libro del Deuteronomio, troviamo la proibizione di consultare i negromanti per entrare in contatto con i morti. La strega di Endor, che abbiamo visto un attimo fa, era una negromante, aveva la capacità di entrare in contatto, una medium potremmo definirla noi, aveva la capacità di entrare in contatto con i morti. e quindi se all'interno della Bibbia c'è scritto che c'era questa proibizione, vuol dire che qualcuno almeno credeva in questa possibilità, c'era la possibilità di entrare in contatto con i defunti e quindi nel fatto che in qualche modo ci fosse una sorta di sopravvivenza di una parte di noi, perlomeno, dell'aldilà. Da questo punto di vista il quadro è abbastanza simile a quello che abbiamo visto nel mondo greco, cioè c'erano diverse posizioni. Non dobbiamo neanche pensare che queste posizioni fossero cronologicamente nettamente distinte, ma dobbiamo invece ritenere che queste concezioni potessero condividere all'interno del mondo ebraico. Quindi sicuramente ci sarà stato chi credeva nell'aldilà, una qualche forma di sopravvivenza nell'aldilà, e chi invece riteneva che con la morte tutto sarebbe finito. L'anima comunque, o meglio, lo spirito vitale, il nefesh ebraico, a differenza che nel platonismo, è sempre considerata mortale. Nel senso che anche coloro che ritenevano in una sopravvivenza nell'anima nell'aldilà, questa sopravvivenza però derivava da una precisa volontà divina. Invece, nella concezione platonica, l'anima è immortale di per sé, cioè è connaturata la sua natura essere immortale nel platonismo. Questa è un'altra differenza fondamentale. Nell'ebraismo è il Dio che al limite, nella sua onnipotenza, può rendere immortale l'anima. Questo concetto di morte e risurrezione, come vi dicevo, a lungo tempo resta non centrale nell'ebraismo. Facciamo un passo avanti. Nei grandi profeti classici, cioè Amos, il primo, vissuto nell'VIII secolo, Isaia ed Ezechiele, ad esempio, compaiono degli episodi in cui, come dire, di primo occhito, sembrerebbe fare capolino il concetto di ressurrezione dei corpi, attenzione, non dell'anima platonica. Vi ricordate, con Platone l'anima risorgere. Invece, questi profeti classici sembrerebbe, uso il condizionale non a caso, che a risorgere sono i corpi. Attenzione, si tratta di un grande misunderstanding, come dicono gli inglesi, perché ciò di cui in realtà parlano questi grandi profeti classici non è la ressurrezione dell'individuo, ma è la ressurrezione, tra virgolette, di Israele, inteso come nazione, inteso come regno. Certo, utilizzando un linguaggio allegorico, ad esempio, Isaia parla di ressurrezione dei corpi, ma in realtà si riferisce alla nazione di Israele. Qual è il contesto in cui dobbiamo calare queste osservazioni? Il contesto era quello di questi profeti che vivono in un momento in cui prima il regno di Israele, e poi quello di Giuda, vengono additi, assaliti e infine annientati dalle grandi potenze imperiali dell'epoca. Gli assiri, che si annettano definitivamente del regno di Israele del nord nel 721 con la conquista di Samaria e poi nel 587 cade definitivamente anche il regno di Giuda sotto i colpi dei babilonesi. Quindi a morire è non è l'individuo, ma è certo, muoiono anche tanti individui nel corso delle guerre, delle distruzioni, degli assedi, ma a morire è il popolo nella sua interezza, o meglio, lo Stato, la nazione e la nazione a perire. Perché leggiamo ad esempio questo passaggio di Isaia che è stato malinterpretato per secoli e ancora oggi viene da alcuni, soprattutto in ambito religioso, malinterpretato. Perché in Isaia 26 noi leggiamo ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno, svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere, sì, la tua rugiada e rugiada luminosa, la terra darà luce alla luce le ombre. Allora, tutta poi l'esegesi cristiana ha interpretato questi passaggi di Isaia come una profezia della risurrezione al momento del giudizio finale di cui non ho ancora parlato, parleremo tra un attimo, in un futuro lontano. Ma noi dobbiamo capire che questi profeti quando parlavano, quando scrivevano, non si riferivano affatto a un futuro lontano, ma stavano parlando della loro epoca e del contesto storico in cui trovavano vivere. Perché se noi poi andiamo a leggere altri passi che stanno attorno a quello che vi ho appena letto, si capisce abbastanza chiaramente che si trattano di allegorie che si riferiscono alla morte di Israele nel suo, come vi dicevo prima, in senso politico e poi nella risurrezione di Israele in un momento in cui Yahweh avrà deciso che la punizione per i peccati di Israele si è esaurita è sufficiente e quindi Yahweh poi darà la possibilità al popolo alla nazione di Israele di risorgere. Quindi non si sta affatto parlando di risurrezione degli individui ma si tratta di una risurrezione metaforica della nazione. Abbiamo un episodio analogo ancora più chiaro con Ezechiele la famosa visione della valle della piana con le ossa inaridite Ezechiele viene portato da Yahweh ed Ezechiele vede queste ossa che lentamente riprendono forma di ricrescono prima i tendini i muscoli poi la pelle e poi appunto riprendono vita questi questi corpi che poco prima erano solo una distesa di ossa è evidente anche qui che si tratta della metafora della nascita di Israele che la cui punizione con l'esilio babilonese non sarà comunque eterna ma se il popolo sarà in grado di seguire le regole del patto Yavista che lo stesso Ezechiele va a come dire a reinterpretare e a e a fornire diciamo così a livello teologico al popolo stesso Yahweh appunto darà una seconda possibilità e farà rinascere farà rinascere il regno di Giuda o meglio il regno di Israele perché poi con il termine Israele si indicherà l'intera nazione ebraica facciamo un altro passo ancora diciamo però prima di farlo un momento diciamo quindi che fino al periodo dell'esilio e anche nell'immediato post esilio nel mondo ebraico non compare il concetto di risurrezione dei corpi intesi come risurrezione dei singoli individui già defunti e non compare nemmeno il concetto di premio e di punizione facciamo un salto di alcuni secoli e arriviamo a quello che viene definito pensiero apocalittico ecco il pensiero apocalittico che si forma attorno a due secoli prima dell'anno zero cioè del periodo diciamo della nascita di Gesù che fa capolino per la prima volta nel mondo ebraico la concezione invece di premio e di punizione nell'aldilà beh intanto se vogliamo pensare ai motivi ricordiamoci che parallelamente nel mondo greco romano abbiamo visto prima con le nede di Virgilio la stessa concezione aveva fatto capolino e quindi non dobbiamo pensare a compartimenti stagni ma almeno dall'epoca ellenistica in poi dobbiamo pensare a scambi a scambi culturali e per la prima volta si parla di ressurrezione nella carne dei singoli che cosa era successo quindi da una parte abbiamo motivi esterni cioè sicuramente penetra nel mondo ebraico la concezione platonica seppur rivisitata di una possibilità di vita di vita nel al di là ma poi ci sono anche dei motivi interni al mondo ebraico quali sono questi motivi abbiamo detto che tutta la religione ebraica tradizionale si basava sul concetto di patto dei vivi però dei vivi con Dio a un certo punto soprattutto in epoca in epoca ellenistica alcuni pensatori alcuni intellettuali del mondo ebraico devono aver iniziato pensare la seguente cosa hanno iniziato a chiedersi come mai pur rispettando in maniera precisa tutti i comandamenti tutti i dettami tutte le regole del patto javista come mai Dio continuava a punire il popolo anzi a punire soprattutto coloro che più degli altri erano considerati giusti giusti in senso ebraico cioè coloro che rispettavano i dettami del patto mentre i malvagi coloro che non rispettavano il patto spesso conducevano una vita di onori e senza senza alcun tipo di punizione divina e allora il quadro che abbiamo di fronte è evidentemente quello delle persecuzioni che in epoca seleucide ellenistica in particolare durante il regno di antioco quarto dovettero subire gli ebrei osservanti antioco quarto era un regnante appunto dell'impero seleucide uno degli imperi che si erano formati alla morte di alessandro magno questo antioco quarto si era messo in testa di ellenizzare tutti i territori da lui controllati e in particolare in particolare aveva posto l'attenzione sulla sulla palestina in cui c'era questo piccolo popolo che di ellenizzarsi pareva non avere molta voglia e quindi ci furono sicuramente delle persecuzioni ci furono leggi introdotte da questo sovrano che tendevano a punire chi seguiva il culto chi rifiutava di ellenizzarsi e quindi in questo contesto che nasce il pensiero apocalittico l'angoscia di non capire perché Dio continua a punire i buoni in senso ebraico e invece a premiare i malvagi i malvagi erano da questo punto di vista i collaborazionisti cioè coloro che invece avevano seguito il cioè si erano più ellenizzati degli altri e quindi casi sono due dovevano pensare questi apocalittici o Dio e malvagio ma siccome non potevano pensarlo perché erano ebrei osservanti allora doveva significare che temporaneamente la terra non era governata da Dio ma era governata da forze che a Dio stesso si opponevano quindi vedete abbiamo per la prima volta compare il concetto di un dualismo Dio buono e una forza o forze malvagie che governano temporaneamente la terra e che buone non sono appunto perché sono malvagie è un po' un concetto che poi lentamente nei secoli si svilupperà e diventerà poi quello che nella cristianità è il dualismo Dio Dio Satana Dio Diavolo Satana in realtà nel mondo ebraico è semplicemente il tentatore colui che mette alla prova gli uomini e a volte mette alla prova gli uomini su ordine di Dio stesso ma questa poi è un'evoluzione successiva rimaniamo concentriamoci sul pensiero apocalittico quindi vi dicevo loro trovano questa soluzione gli apocalittici se c'è il male sulla terra è perché la terra è controllata temporaneamente da forze che si oppongono al cioè che si oppongono Dio stesso ma siccome comunque Dio è molto più potente di queste forze Dio prima o poi interverrà ristabilirà il proprio regno sulla terra e annienterà definitivamente le forze del male le forze malvagie abbiamo quindi l'idea di un di un momento che possiamo definire giudizio finale in cui Dio riprenderà possesso del regno terrestre diciamo così poi ovviamente questo pensiero si declina in mille rivoli ci sono mille dettagli tra un autore e l'altro che si differenziano ma diciamo il concetto di base è questo il primo libro il primo testo apocalittico che non è biblico è strabiblico se non nella Bibbia copta etiope è il libro di Enoch in cui si parla per la prima volta di resurrezione della carne cioè c'è l'idea che nel momento in cui Dio ristabilirà il proprio controllo sulla terra sconfiggendo i vigilanti e i demoni che si sviluppano sulle ceneri dei vigilanti qui non vorrei farla troppo lunga questi vigilanti erano i figli dei nefilim cioè dei giganti delle donne terrestre entità malvagie che governavano la terra ovviamente quando parlo di libro di Enoch non significa che l'abbia scritto un personaggio di nome Enoch tutta la tradizione apocalittica ha l'abitudine di associare ai testi i nomi di personaggi famosi della tradizione ebraica per rendere questi testi più così più seri tra virgolette più più meritevoli di attenzione tant'è che abbiamo appunto il libro di Enoch ma abbiamo anche il libro di Daniele che invece si trova all'interno della Bibbia nel libro di Daniele e questo è un altro aspetto interessante da notare che è scritto nel periodo proprio di quel famoso Antiaco IV Epifane la ressurrezione nella carne quindi l'avvento del regno divino dovrà avvenire immediatamente dopo la morte dello stesso Antiaco quindi c'è una prospettiva di imminente rivolgimento questo questo giudizio finale non è proiettato in un passato lontano indefinito ma è un qualcosa che sta per avverarsi le sofferenze patite da coloro che lottavano contro Antioco IV Epifane dovevano avere una fine per l'autore del libro di Daniele imminente altrimenti non come dire senza questa prospettiva di imminente rivolgimento forse alcuni non avrebbero potuto continuare a resistere e a opporsi al tiranno adesso sto così estremizzando il concetto ma è per farvi capire c'è un altro testo che non è canonico i salmi di Salomone che è un testo del primo secolo avanti Cristo quindi ci avviciniamo veramente al cristianesimo dove per i malvagi invece non si parla di punizione eterna ma di annientamento quindi abbiamo un po' un ritorno a concetti precedenti ma c'è sempre comunque di base questa idea di un giudizio di un ristabilimento del potere di Dio sul terra abbastanza imminente c'è poi un episodio che viene trattato in due modi diversi in due in due testi diversi secondo libro dei Maccabei e quarto libro dei Maccabei siamo di nuovo nel periodo della lotta contro Antioco IV di cui vi dicevo c'è un famoso episodio che è famosissimo ancora oggi nella cultura ebraica dei sette fratelli che si opponevano ai tentativi di ellenizzazione di Antioco IV che vengono torturati uno dopo l'altro per non piegarsi ai voleri del resto aleucide che semplicemente gli chiedeva di mangiare della carne di maiale come forma di abbiura del loro credo vengono torturati orribilmente uccisi uno dopo l'altro ma non si piegano ecco questo episodio nel secondo libro dei Maccabei e nel quarto libro dei Maccabei viene sì descritto sostanzialmente in maniera simile ma a due sbocchi diversi perché nel secondo libro dei Maccabei c'è il concetto di come dire risurrezione del corpo dei giusti cioè risorgono proprio nel momento di giudizio finale risorge proprio il corpo invece nel quarto libro dei Maccabei c'è sì la risurrezione dei corpi in un tempo che però non è ben indefinito ma immediatamente dopo la morte la morte atroce dopo la sofferenza dopo il martirio ecco di nuovo c'è questa questa figura del martirio del martire che è centrale per lo sviluppo di questa di questa concezione del premio dicevo immediatamente dopo la morte nel quarto libro dei Maccabei abbiamo un premio a essere premiato non è il corpo che sarà che verrà risorto soltanto alla fine dei tempi ma è l'anima qui possiamo notare ironicamente un aspetto che stiamo parlando di un episodio di come dire di opposizione all'elenizzazione forzata da parte di Antioco IV ma il concetto espresso qui cioè che questi tette fratelli saranno immediatamente premiati o meglio la loro anima sarà immediatamente premiata è evidentemente un concetto di derivazione platonica quindi di derivazione ellenistica quindi è un po' una contraddizione questo per dire che i compartimenti stagni non esistono e non esistevano nemmeno allora ci sono altri testi che richiamano elementi apocalittici nel tardo giudaismo del secondo tempo uno è il quarto libro di Esdra e l'altro è il testamento di Abramo allora nel quarto libro di Esdra che è stato scritto molto tardi probabilmente anzi sicuramente dopo la distruzione di Gerusalemme per opera dei romani quindi siamo già alla fine del primo secolo dell'era volgare apparentemente si parla dei babilonesi della distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi ma in realtà allegoricamente ci si riferisce i romani ecco l'autore di questo libro ragiona con una duplice prospettiva un po' come nel quarto libro dei Maccabei cioè una ricompensa immediata dopo la morte e poi una risurrezione futura alla fine dei tempi dei tempi scusate allora questa concezione poi ce la ritroveremo anzi ce la ritroviamo parallelamente ormai nel cristianesimo nascente di cui oggi non vi parlerò questo per così per fare capire che di nuovo anche qui non abbiamo compartimenti stanni ellenismo ebraismo e cristianesimo sono vasi comunicanti invece il testamento di Abramo che è più o meno contemporaneo al quarto libro di Esdra mette l'accento quasi esclusivamente sulle ricompense e le punizioni immediatamente dopo la morte e anche qui c'è un parallelismo con l'evoluzione che poi ci ritroveremo nel cristianesimo nascente il cristianesimo nasce come una setta che all'inizio avendo una prospettiva apocalittica il suo fondatore Gesù era un apocalittico nel senso che riteneva imminente la fine dei tempi e dei tempi e l'instaurazione del regno di Yahweh sulla terra con la cacciata dei malvagi cioè dei romani dei cattivi di coloro che pressavano il popolo di Israele il popolo dei giusti ecco invece nel testamento di Abramo questa questa risurrezione finale dei corpi legata al giudizio finale non c'è o meglio viene non se ne occupa più di tanto mentre viene posto l'accento sul premio immediato dopo la morte il premio dell'anima che ripeto è lo stesso percorso che ritroviamo nel cristianesimo all'inizio ci si concentra sull'imminente fine dei tempi poi siccome la fine dei tempi non arriva la teologia e la teodicea cristiana inizia a spostare l'attenzione sui concetti di premio e di punizione immediatamente dopo la morte ma di questo ne parleremo nella seconda puntata perché come vi dicevo stasera non tratto del cristianesimo quindi possiamo dire così come nel mondo greco anche nel mondo ebraico c'erano apocalittici come abbiamo detto negli ultimi secoli anti-era volgare ma c'erano anche non apocalittici cioè c'erano molti ebrei che non non aderivano a questa questa idea della fine dei tempi Giuseppe Flavio ad esempio ci dice che gli esseni avevano un'opinione di tipo grecizzante possiamo dirla così perché pensavano ad una resurrezione dell'anima immediatamente dopo la morte i farisei secondo Giuseppe Flavio credevano invece che l'anima passasse in un altro corpo qualcuno ha voluto vedere in questo l'idea che i farisei credessero nella appunto nella trasmigrazione delle anime nella reincarnazione è più probabile invece che Giuseppe Flavio elettoricamente pensasse al corpo che Dio ridarrà ai morti nel momento del giudizio finale quindi che i farisei aderissero in qualche modo ad una prospettiva apocalittica spostata però in un futuro non ben precisato i saducei sempre secondo Giuseppe Flavio invece pensavano che con la morte sopraggiungesse nulla i saducei erano concentrati soprattutto sulle attività rituali legate al Tempio di Gerusalemme per loro la sfera religiosa per la loro sfera religiosa era importante adempere al rito alla norma forse collegandosi un po' a quella che era la tradizione più antica dell'ebraismo di nuovo però come abbiamo detto per il mondo greco romano noi non sappiamo in realtà che cosa pensassero le masse del mondo ebraico perché a queste correnti a queste sette sette forse non è non è il termine più corretto queste correnti all'interno dell'ebraismo aderiva una piccola minoranza della popolazione ebraica la stragrande maggioranza non era né farisea né saducea né sena né aderiva alla cosiddetta quarta filosofia erano semplicemente ebrei che osservavano più o meno pedissequamente le norme stabilite nella Torah e le regole legate al culto presso il Tempio di Gerusalemme probabilmente all'epoca di Gesù la maggioranza credeva in una qualche forma di continuità della vita dopo la morte anche qui ci sono utili le lappe di funerare per questo però di nuovo nel mondo ebraico avevamo una pluralità di opinioni vedete quindi come la situazione nei secoli in parte si è evoluta in parte però si è evoluta anche parallelamente nel senso che anche qui non dobbiamo pensare ad un andamento cronologico perché fino all'epoca di Gesù c'erano coloro che non credevano a nulla nel post mortem c'era chi credeva a qualcosa c'era chi poneva l'accento sul giudizio finale chi poneva l'accento su un'immediata vita dopo la morte sotto forma più o meno eterea di anima c'erano opinioni differenti sui concetti di premio di punizione e l'intensità degli stessi un magma insomma un magma all'interno del quale inizia a svilupparsi una nuova setta nel seno dell'ebraismo attorno a un personaggio storico di nome Gesù ma questo è l'argomento della prossima puntata un saluto a tutti alla prossima un saluto